Parto! Leos Italia 2020, il momento della verità. Prima fase di corsa con 3-4 elementi in avanti, con all'interno Tangut che sembra quella più decisa e ne voleva prendere iniziativa, cosa che in effetti fa Rossigret che si mette subito in scia, seguita da Frivola, all'interno della quale c'è la compagna fuori serie e poi Norona che ha in scia Uyante Pui, in corda Memphis a Racing Beauty nel cuore del gruppo, più dietro invece rimane Frozen Touch, ultima Annie Rose secondo il suo abituale schema tattico che è davanti a sé Made in Italy. Queste le posizioni con Tangut che mantiene l'iniziativa, un'iniziativa costante davanti alla stessa Rossigret che si mantiene seconda, Frivola e fuori serie seguono. In quinta posizione Memphis in giuba bianca con le maniche nere, Norona in giuba rossa che viaggia a largo, a Racing Beauty giuba nera cap rosso, la grigia Uyante Pui facilmente riconoscibile, poi Made in Italy che affianca all'interno Frozen Touch, sempre ultima, rimane Annie Rose in giuba rossa. In quest'ordine alle cavalle quando si va sulla piegata finale, Tangut fino adesso ha impostato un ritmo non particolarmente sollecito e davanti a Rossigret, in terza corsia invece agisce Frivola all'interno fuori serie avvicinata da Memphis di fuori Norona con Uyante Pui che la segue, poi a Racing Beauty, sempre a chiudere il gruppo, rimangono invece Made in Italy insieme a Danny Rose. Senta in retta d'arrivo, l'800 metri della verità per le cavalle delle Ox che vedono sempre Tangut in vantaggio nei confronti a largo di tutti di Frivola, fuori serie che prende la corsia interna, Norona che si avvicina insieme ad Uyante Pui che la segue. Un touch che adesso prova a sua volta a mettersi sulle gambe, l'attacco di quelle davanti con Uyante Pui che muove adesso a largo di tutti nei confronti della stessa Frivola, all'interno prova ancora a rimanere in quota Rossigret, da dietro si avvicina anche Made in Italy, poi Annie Rose a largo di tutti, Norona che rimane sul passo, Uyante Pui adesso mi richiesta maggiore impegno per andare su Tangut, in mezzo c'è sempre fuori serie di fuori Made in Italy che sta piazzando il suo fondo, Uyante Pui adesso trova la pedalata per andare all'attacco di quelle all'interno, Uyante Pui che scatta su Tangut e che rimane in quota alla grigia, che batte tutte e vince le Oaks davanti a Memphis che emerge per fare secondo, vicine per il terzo all'interno Tangut e Made in Italy. Non delude, Uyante Pui la montagna del diavolo che vince le Oaks d'Italia, Claudio Colombi in sella per i signori Simondi e Lupinacci Altrini, i colori della We Blostock. È stata meno dirompente che nelle prime due corse ma alla fine Uyante Pui fa onore al pronostico che la vedeva nettamente favorita nelle Oaks, passa di forza ai cento finali sulla molto tonica battistrada al via Tangut, finisce forte al suo interno la ospite Memphis che però non può realmente impensierire a Uyante Pui che aveva già la vittoria in tasca, finisce bene a largo anche Made in Italy in risalita dalla penultima posizione che appariglia sul traguardo Tangut e quest'ultima era andata davanti con Fabio Branca, anche questa ospite tedesca e si è mantenuta benissimo in quota fino al traguardo. rivediamo dalla camera bassa le immagini decisive con Claudio Colombi che richiede lo sforzo vincente a Uyante Pui e poi festeggia già quasi prima del palo quando Memphis finisce forte al suo interno per il posto d'onore, più stretta la foto per il terzo, vediamo se con la ripresa laterale un nuovo replay possiamo essere più precisi, ecco il momento dello scatto determinante di Agliante Pui che rimonta a Tangut, Memphis trova la pedalata giusta nelle ultime battute, a ridosso c'è anche Rose Frozen Touch, vediamo che sul palo Agliante Pui precede Memphis per il terzo Made in Italy a largo, mi sembra che abbia ragione, di Tangut per il terzo dovrebbe essere quindi 387 l'arrivo ufficioso.